no no non coppa perchè qua vince un manettone diritto cerca di almeno venire di qua con la ruota davanti se non riesco a prenderti anche perchè il lele non serve a niente lì devi stare sopra l'ostacolo non sotto ma lì non serve niente ti cade addosso ma che vada e cosa fai prendi il montesa 120 kg di moto non la vede neanche passa fuori dritta ma passa fuori e vai vola via non la facevi così bene vola via noi arrivavamo qua un po più piano di come è arrivato a fare gli ricoppi e te ne vai e no però la prima volta che la facevo non sapevo se ti è in data meglio un po' più forte tra Sergio quella lì è come una salita eh te l'ho detto che non lo vedi non lo vedi neanche calcola che lui c'è il montesa il montesa è un quadrello quindi passa fuori dritto vuotala vuotala no la sua quarta si fia non si va per me è sempre corto io mi sbaglierò io non so come cazzo fa ad andare su Marco queste cose non alzarla mai passala fuori come dire figaro così rischi perché torni giù queste cose qua falle sempre dire non pensare di pesare fare vai e basta ti ammazzi così ti ammazzi così oh della sua cazzo c'è che è fermo io non so come cazzo fa pensa alla fine dell'anno quanto quanta pensione risparmia ma cinque volte alla settimana sempre con un filo di gas io non lo so figaro la tannica gli vuole a sei mesi a me fa sempre spaventare ti giuro perché mi fa sempre l'effetto prima era ancora peggio prima adesso usa un po' di tecnica riesce ma cazzo resta sempre a fine io non so come cazzo voi la provate? oh apri tutto oh con la tua che è più lunga a sto punto come l'hai fatto la prima volta voli su e poi attacchi e poi è uguale non ti si alza l'attacco che scende dietro vai fuori lento chiudi e vai fuori lento prova prova va fuori la sua è talmente veloce che passa fuori vedi guarda è sempre piccato eh cazzo è meglio la prima volta che hai fatto e dopo è chiuso e ma lì cosa vuoi che faccia appoggi il davanti no appena ti va giù il dietro vai via lento no non puoi farti niente lì oh ma ti dì che mi faccio più male io a piedi che no eh sì lui vola sua eh eh lui vola sì sì ha paura ha paura anche lui è stanco oggi no non ti piace non ti piace perché arrivi tutto scombinato sì ma guarda che perché alla fine di tutto fai ancora meglio tu no arrivi giusto ti fermi e poi riparti perché alla fine devi pensarla come una salita non devi pensare al tronco devi pensare che una salita continua e poi vai via eh però vedi che dopo anche lui sbaglia perché va via manettone Sergio lui fa giusto è più lui che arriva talmente lento po e poi va via ormai è Lele Beruschi ma non è che andiamo a regalargli dei soldi eh out andiamo di là grazie 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 grazie